Abbiamo presentato il relato annuale di corte dell'anno 2017. È un grande onore e un piacere per essere qui in Aruba. L'anno è organizzata una conferenza di prensa nella loro località di corte che è il vicepresidente di informare la prensa e il contenuto del relato annuale. Presidente e direttore di Bedrips Furing presentano in una differente località di corte. E' un'altra cosa che si tratta di un'aruba. Abbiamo presentato un'applicazione di informare la prensa e il relato annuale, è diciamo, che si tratta di un'applicazione di corte in generale. Signora Barndrecht ha presentato un'informazione di finanziarie. Signora SAP, vicepresidente di Aruba, ha presentato un'applicazione di Aruba in particolare. e signora Angela Lovisa ha presentato un'applicazione di prensa e interiore. Grazie a tutti. Grazie.